A Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino, è visitabile, con ingresso libero sino a sabato 23 settembre, la mostra di pittura all'arte incontra la poesia, allestita per iniziativa delle associazioni Arte Città Amica e Immagine e Poesia. L'esposizione comprende una serie di opere a tema libero, ma soprattutto alcuni dipinti ispirati a una poesia di Lawrence Ferlinghetti, esponente della Beat Generation americana, tratta dal libro dei sogni di Greenpeace. Il poeta e pittore statunitense, ormai 98enne ma ancora attivo sulla scena culturale internazionale, è la fonte ispiratrice di un progetto che Arte Città Amica porta avanti da alcuni anni con il movimento artistico letterario Immagine e Poesia. Ormai oltre dieci anni che siamo presenti nella struttura della cultura torinese ed è una delle prime cose che ci è venuto naturale, che abbiamo fatto di creare queste sinergie tra letteratura, poesia e arte visiva. Avete coinvolto nelle vostre iniziative Ferlinghetti, immagino che non sia stato facile anche se lui ha un legame forte con l'Italia. Sì, secondo me il segreto sta nella sinergia tra le varie associazioni. Noi siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione con altre associazioni, che è quella che segue appunto in maniera molto diretta e puntuale Ferlinghetti, questa possibilità di trasporne anche la sua essenza poetica nella nostra realtà culturale torinese. Un esempio, è un uomo che dà lezioni ancora oggi, ha 98 anni. Direi di sì, perché si nota fortemente, anche nei suoi testi, quella stabilità, quella forza d'animo spirituale che nasce soltanto, che si sente soltanto quando una persona l'ha vissuta profondamente nel corso della sua vita e della sua storia. E Ferlinghetti questo riesce a trasmetterlo fortemente.